Che cosa manda Cristiano Ronaldo per avere questo fisico? Il suo chef ha spiegato che le sue ricette si basano su tre regole fondamentali imposte dal calciatore. Prima regola, sei pasti al giorno, deve mangiare circa ogni 3-4 ore, per sostenere tutta l'attività fisica che fa e per avere un apporto di calorie equilibrato in tutta la giornata. Seconda regola, solo alimenti non processati, cereali integrali, frutta fresca, proteine magre, quindi pesce azzurro e carne bianca. Sicuramente no ai dolci e a tutti i prodotti industriali. Terza regola, no bibite zuccherate, al massimo sporadicamente un bicchiere di vino. Ecco se foste interessati in questo momento sta cercando uno chef personale e lo stipendio sarà di circa 6.000 euro al mese.